Una nuova galleria della sostenibilità è stata inaugurata al Muse, Museo delle Scienze di Trento, per rendere ancora più tangibile l'importanza della conoscenza per aiutarci a capire come ogni sfida del nostro tempo si è interconnessa a molti altri fattori e all'interno di questa nuova area del museo trova spazio il concetto di Goal Zero che un'azienda come Lavazza ha lanciato nel 2017 per costruire le basi del futuro, ossia la diffusione della cultura e della sostenibilità che al Muse prende anche la forma di un'installazione artistica. Quello che vede dietro di noi appunto rappresenta il nostro Goal Zero ed è diciamo un'installazione anamorfica fatta proprio da un gruppo di designer, di artisti che è truly design. Credo che essere ogni tanto un po' criptici, attirare l'attenzione su però dei concetti molto chiari ti permette di rifletterci in maniera un pochino più approfondita. Quindi questa installazione è un'installazione che vivi, entri dentro, ti raccontiamo le cose che abbiamo fatto e vogliamo essere anche forse un po' di ispirazione. Ne dovresti uscire con la tua visione, non si è mai io ma siamo sempre noi. Il nostro obiettivo è proprio quello di creare alleanze, di creare gruppi, di creare persone che riflettono su tantissimi temi. Il Museo e Lavazza iniziano quindi un percorso di sinergia rivolto a diffondere le conoscenze e le pratiche che possono portarci a raggiungere gli obiettivi delle Nazioni Unite per il 2030. Lavorare con Lavazza è stato bellissimo, è bellissimo, speriamo di poter continuare proprio perché troviamo lo stesso modo di intendere la responsabilità di conoscere, apprendere, immaginare e agire. Non sono sponsor, sono dei partner, sono quei soggetti che attivamente nell'ambito della propria responsabilità nella società che stiamo vivendo si stanno assumendo un compito di futuro. Allora questo compito di futuro desiderato, ricercato e praticato deve essere fatto tutti assieme e i musei sono luoghi giusti perché questa cosa sia rappresentata. Il futuro, la possibilità di un futuro, è il tema intorno a cui ruota tutto e che nella Goal Zero area prende la forma di impegni diretti assunti anche dalle grandi imprese, ormai sempre più coinvolte nella strategica partita per la sostenibilità. Il gruppo Lavazza, proprio nella visione, nella piattaforma di Blend for Better, fa ricadere tutte le attività di sostenibilità. Sono attività molto concrete, attività di lungo corso nell'ambito sia ovviamente ambientale che sociale che chiaramente economico. Tutti aspetti di area di intervento che trovano spazio a cittadinanza nella Galleria della Sostenibilità dalla quale si vuole partire per affrontare concretamente le questioni poste dal nostro pianeta ma che è anche un luogo di significativa riflessione su cosa significhi essere oggi un museo e come lo si possa fare in modo da avere un più forte impatto sulla società.